Sono ore che non ci dite niente La situazione è complicata, bisogna avere pazienza Purtroppo questo è il passo di lindale Ma c'è qualcosa che possiamo, che posso fare Se c'è bisogno di persone per strada a cercare l'auto io posso farlo Se c'è quel... So che non è facile e non ha senso dirti stare tranquilla Ma stiamo facendo tutto il possibile per ritornare tua sorella Quello che può fare adesso è stare vicino a tua madre Farvi forza a vicenda Eccolo Non è tutta colpa mia Mi hanno preso a percorrere Sì Quindi Sì 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 Grazie.